Nel realizzare calzature di qualità, serie, importanti, artigianali, dobbiamo ragionare su una serie di dettagli. In questo caso vi mostro questa splendida Oxford in un bel marrone, che non è proprio un testa di moro, è più un cioccolato, diciamo. Quindi un bel color cioccolato, un vero marrone pieno, che secondo me è perfetta da abbinare ai grigi, ai beige, ai marroni, ai verdi. Insomma è veramente una scarpa facilmente abbinabile e anche è perfetta per gli spezzati. Da notare è la presenza della doppia finitura sulla pelle. Da una parte è opaca, dall'altra parte invece è più lucida, come potete notare, solamente la punta. E l'effetto è quello di una scarpa a doppio tono. Da una parte opaca, da una parte lucida, che certamente dona grande risalto, un bel dettaglio alla scarpa che viene certamente arricchita. Altro dettaglio importante è la suola. Quindi come potete notare questa è la nostra tipica suola, con i chiudini montati a mano e l'antiscivolo. Ma in questo caso abbiamo inserito anche quelli che sono dei gommini antiscivolo, proprio nella parte alta della suola delle scarpe. Che certamente lo rende di maggior dettaglio, maggior comfort e anche insomma è un elemento di qualità rifinitissimo. Da notare è sempre la nostra classe Coucher Coudier, tutta quanta è rifinita a mano. E secondo me questo è un tipico prodotto, che credo che non debba mai mancare nel guardaroba, nella scarpiera, di chi apprezza i prodotti di qualità artigianale. Spero che le calzature e che il video vi siano piaciuti. Ci vediamo da dal sarto.